Bentornati! FabioAmbrosi.it, questo è il mio canale YouTube, stiamo affrontando un volo simulato da Roma-Ciampino diretti verso l'aeroporto di Napoli, capo di Chino. Lo ricordo per chi avesse cliccato su questo video per la prima volta, questo non è un tutorial su come si fa il volo simulato reale, quindi salteremo le procedure, salteremo le cartine, salteremo tutte le comunicazioni di rito che vanno fatte per filo e per segno è solo questo un video per mostrare a chi non ha mai messo mano in vita sua a Fly Simulator come sia possibile prendere un Airbus, volare e arrivare da Ciampino a Napoli in poche decine di minuti, via, ok? Quindi sto semplificando un argomento che i puristi probabilmente vorrebbero veder trattato in maniera molto più precisa, però non è questa la sede. Dicevo nello scorso video che abbiamo configurato tutto quello che dovevamo per poter iniziare a volare. Siamo in questa schermata, clicchiamo su Ready to Fly, pronti per volare ed eccoci, siamo dentro alla nostra cabina di pilotaggio del nostro fantastico Airbus A320neo, ok? Ci troviamo a Ciampino, prima di continuare notate come l'aereo sia completamente spento, dovremo accenderlo, noi partiremo con l'aereo spento, dovremo premere diversi interruttori per avere l'energia per poter avviare poi i motori, eccetera, eccetera, eccetera. Ho piccole considerazioni sull'interfaccia, qui in alto abbiamo un piccolo menu, cliccando su ciascuna di queste caselline possiamo accedere a diverse funzioni, la prima, questa torre, ci apre il pannellino per poter dialogare con la torre di controllo, a breve vedrete che sarà fondamentale questa operazione. Il secondo menu ci permette di switchare le viste, qui siamo all'interno della cabina di pilotaggio, potremo andare fuori, eccoci qui. Siamo fuori dall'aeroporto, mamma mia dove c'è uno parcheggiato, terribile, abbiamo scelto una posizione poco felice. Comunque siamo, ecco, siamo proprio all'inizio della pista 33, a occhio, dicevo questo è l'aeroporto di Roma-Ciampino e da qui decolleremo per andare verso Napoli, questo è il nostro aereo, vedete i vari, diciamo i vari, come si chiamano? Non strumenti, sì, vai, sono i vari strumenti per l'imbarco, abbiamo, diciamo, sono le scale per salire, molto realistica come simulazione, vedremo tra poco che potremo far venire il modulo dei bagagli per caricare per esempio i bagagli dei passeggeri. Ma vabbè, torniamo all'interno della nostra cabina di pilotaggio perché la prima cosa che dobbiamo fare è accendere il nostro aereo, togliamo questo menu e passiamo al successivo che sono le checklist, le checklist sono delle, è un elenco sostanzialmente di cose che dobbiamo assolutamente fare, lo fanno realmente i piloti quando volano, ovvero vengono lette delle istruzioni che devono essere svolte all'interno dell'aeroplano o delle accortezze che bisogna verificare che siano state prese. Queste sono le checklist in parole molto, molto povere. Sono molto più complesse di quelle che vedremo, questo è un aereo di default, presente di default in Flight Simulator, non dovete acquistarlo, probabilmente nei prossimi mesi usciranno delle versioni di Airbus molto più fedeli all'originale per quanto questa lo sia già abbastanza e magari in quegli aerei che acquisterete troverete delle checklist molto più complesse e molto più vicine alla realtà. Queste checklist sono molto semplificate ma vediamo come funzionano, clicchiamo sulla prima, la prima si chiama Before Starting Engine, prima di avviare i motori, ovviamente prima di avviare i motori dobbiamo accendere il nostro aereo. Prima di iniziare la checklist una piccola carrellata sui tasti di scelta rapida sulla vostra tastiera. Control spazio vi permette di resettare la visuale alla visuale di default. Control 1 ci permette di vedere questi due monitorini, tra poco vedremo cosa sono. Control 2 ci permette di vedere questo che è il pilota automatico, ok? Control 3 questi monitorini qui faranno vedere lo stato dei motori. Control 4 è simile a Control 3 ma un po' più largo. Control 5 il computer di bordo, qui configureremo un po' di cose tra poco. Control 6 queste sono le manette che ci permetteranno di spingere i motori per dare potenza al nostro aereo. Control 6 qui possiamo controllare questi che sono gli aerofreni, questi che sono i flap, questo che è il freno di parcheggio e altre cose che negli aerei più complessi avrete possibilità di modificare. Control 6 è una visione, no, Control 8 scusate, questo che è il modulo che utilizzeremo adesso per accendere il nostro aereo. Quindi dicevo, torniamo alla checklist, possiamo utilizzare la checklist in due modi, o portarla avanti punto per punto, o farcela leggere da un assistente che ce la legge per noi e noi eseguiremo i comandi, o farla fare totalmente all'assistente in maniera tale che noi possiamo per esempio fare altro, o accelerare comunque i tempi per il nostro decollo. Se non sapete che cosa sono questi comandi, dove sono i bottoni da premere, a fianco notate c'è un occhio. Clicchiamo sul primo occhio, vediamo, e ci viene evidenziato, ci vengono evidenziati i primi due bottoncini da cliccare, uno e due, quindi dobbiamo cliccare sopra per accederli. Proviamo. Ok, la prima cosa l'abbiamo fatta. Se clicchiamo sulla prima voce, sulla prima voce che è questa qui, Battery Switches, ok, abbiamo verificato che sono accesi. Dicevo che possiamo chiedere a un assistente di leggerci la checklist, no? Cliccando su Evaluation possiamo fare proprio questo, ovvero, ascoltate. Ok, vedete che c'è qualcuno che ci dice cosa fare, ci legge questa checklist. External Power, dobbiamo renderla On, if available. Eccolo qui il bottoncino, clicchiamo. Ok, dobbiamo... Ok. Eccolo qui, l'APU Master Switch. Clicchiamoci. Stessa cosa. Dobbiamo attendere qualche secondo che questi due indicatori diventino verdi. Oh, questo è un modo per poter fare la checklist in maniera quasi simile alla realtà. Se però siamo stanchi, non abbiamo voglia, o abbiamo fatto tante volte, vogliamo subito giocare e non ci interessa la fedeltà con la realtà, possiamo premere il bottone Auto Complete Page, che farà in modo che il nostro assistente faccia tutto per noi. Appena diventeranno verdi questi due indicatori, vi mostrerò come... Ecco qui. Perfetto. Clicchiamo su Auto Complete Page. Ok. E tutto viene fatto automaticamente. Non abbiamo ancora acceso i motori, eh? Stiamo semplicemente accendendo, diciamo, gli strumenti di bordo, no? Abbiamo energia, abbiamo aria condizionata, abbiamo le luci accese, ma i motori sono rigorosamente spenti. Fantastico. Per ora chiudiamo la checklist, apriamo la torre di controllo. Qui possiamo comunicare con la nostra torre di controllo. Prima di iniziare, però, voglio parlarvi degli strumenti che abbiamo a disposizione, perché pilotare un aereo, sì, ma almeno qualcosina, qualche informazione dobbiamo averla per poter iniziare a volare. Questi due monitor ci danno informazioni sulla velocità, questo indicatore a sinistra, sul nostro orientamento rispetto al terreno, in altre parole, se stiamo salendo, scendendo, se stiamo andando verso destra, verso sinistra, ok? Il terzo indicatore ci dà l'indicazione dell'altezza, o meglio, dell'altitudine, perché, attenzione, c'è differenza tra altezza e altitudine, ok? Non approfondiamo, ma qui vediamo la nostra altitudine, ok? Abbiamo anche la vertical speed, ovvero quanto rapidamente stiamo salendo o scendendo. Il secondo monitor ci farà vedere la mappa, o meglio, il piano di volo che noi dovremo seguire, o altre indicazioni che, quando diventerete bravi, vi saranno molto, molto, molto utili. Questo, invece, è il pilota automatico. Bene, il primo valore, che è questo qui, è il valore dell'altimetro. Ora, non entriamo nei dettagli del perché e del per come. Questo è un valore che dovete impostare ogni volta in base alla temperatura, in base alla pressione, in base alle condizioni atmosferiche e meteorologiche che avete in questo momento intorno a voi. Ora, questo è un valore che ci darà la torre di controllo. Tra poco vi dirò come fare per averlo, se volete simulare, no? Un vero, una vera procedura, come nella realtà. Se però volete barare, premete il tasto B sulla tastiera di baro, no, non è vero, comunque premete il tasto B sulla tastiera, e questo valore viene automaticamente settato alle condizioni meteorologiche in cui vi trovate in questo momento. Questi due sono due manopole che ci permettono di modificare questo monitor qui in basso. Possiamo impostarlo per visualizzare il piano di volo, tra poco lo vedremo, oppure per seguire i vari punti rotta. Questa è la distanza che noi andremo a visualizzare in miglia nautiche, ok? Poi abbiamo questo che è l'indicatore della velocità, qui potremo impostare la velocità a cui andare. Questa è la rotta da seguire, ok? Questa invece è l'altitudine, la quota di volo che vogliamo impostare. Noi sappiamo già che arriveremo, inizieremo ad andare ad una quota di 7000 piedi, la impostiamo subito. Questa è la vertical speed, ovvero quanto velocemente volete salire o scendere. Per il momento lasciamola così. Quando c'è questo pallino acceso vuol dire che è il computer a controllare tutto, ok? Anche se voi cambiate non accade nulla. Vedete che passando con il mouse sopra queste manopole avete una freccia che va verso l'alto o verso il basso. Cliccandoci disabilitate il pallino, quindi dite al computer no no, fai come dico io, vai a 7000 piedi. Vi dico subito che Fly Simulator al momento ha un bug abbastanza grave, per cui non funziona perfettamente. Quindi vi dico subito che in fase di atterraggio potremmo avere dei problemi con il computer di bordo, con il pilota automatico. È un problema noto, sanno già Microsoft che devono risolverlo, lo risolveranno nelle prossime settimane, speriamo, ok? Altri tasti importanti da conoscere, ma ne parleremo meglio più tardi. Questi due che ci permettono di visualizzare informazioni importanti in fase di atterraggio. Questo è un bottone lock che accenderemo quando staremo per arrivare. Vi diremo meglio più tardi in che modo. Approach, anche questo, lo utilizzeremo in fase di atterraggio. Per attivare il pilota automatico dobbiamo attivarlo quando saremo decollati, ovviamente, armarlo meglio ancora e poi attivarlo con questo bottoncino qui. Ok? Ora, chiaramente, siamo ancora a motori spenti e non è possibile farlo. Perfetto. Altre informazioni che abbiamo da vedere questi sono i motori, la leva per il carrello per tirar su e tirar giù le ruote. Qui abbiamo un'indicazione dello stato. Sappiamo quanto carburante abbiamo da questa indicazione qui. E ancora, andando a vedere i motori, abbiamo già parlato prima, flap, vi dico subito che li impostiamo a uno per il decollare. e gli aerofreni nel caso in cui stiate andando troppo veloci e volete rallentare gli aerofreni possono servire. Queste sono le indicazioni base. Ok? Adesso noi ci colleghiamo con l'autore di controllo e ci sintonizziamo con Ciampino Ground che è l'ente che è responsabile dei movimenti a terra. Collegandoci al Ciampino Ground possiamo chiedere la prima cosa che si chiede all'autore di controllo quando si inizia a volare ovvero l'autorizzazione al piano di volo. Ce ne diremo stiamo siamo all'Italia 138 vogliamo andare a Ciampino ci autorizzi e l'autore di controllo vedrete che sarà felice di autorizzare il nostro volo. Clicchiamo. Ciampino Ground OSA 138 1123 IFR to Naples ready to copy OSA 138 1123 is clear to Naples airport as filed take off runway 3-3 climb and maintain 9000 feet departure frequency is 130 decimal niner squam 3-3-0-5 ok ogni istruzione anche nella realtà questo deve essere sempre ripetuta quindi clicchiamo ancora per dire che abbiamo capito e ripetere il messaggio OSA 138 1123 clear to Naples airport as filed take off runway 3-3 climb and maintain 9000 feet departure on 130 decimal niner squam 3-3-0-5 ok cosa ci hanno detto ci hanno detto ok ci hanno detto che siamo autorizzati che dobbiamo partire come stabilito dalla pista 33 questa è un'altra cosa non proprio precisa è un discorso lungo che non faremo adesso in genere a Ciampino si decolla e si atterra sulla pista 15 ma in base alle condizioni del tempo magari si può anche decollare sulla pista 33 come questo è il caso ma l'informazione più importante è che una volta decollati dovremo raggiungere i 9000 piedi eccolo qua maintain 9000 feet quindi impostiamo subito il nostro pilota automatico per arrivare a 9000 piedi ok dicevo prima dei vari strumenti che abbiamo intorno a noi per imbarcare i bagagli per far salire le persone se volete giocare un pochettino ground services per esempio quindi possiamo richiedere il pushback tra poco lo faremo potremmo richiedere il rifornimento del carburante potremmo richiedere non so di far avvicinare la rampa per far salire i passeggeri far caricare i bagagli il catering e cose simili noi cominciamo con il far avvicinare la rampa ok e chiediamo di caricare i bagagli fantastico per il momento fermiamoci qui sentite questo suono assordante ci informa che le porte sono aperte perché stiamo facendo salire i passeggeri per spegnere questo suono fastidioso che però è un avviso è un allarme quindi normalmente va tenuto conto basta premere questo bottoncino e tutto torna in silenzio usciamo un secondo fuori guardiamo quello che sta accadendo via fuori dovremmo vedere eccola la rampa che si sta avvicinando alla nostra porta e tra poco vedremo anche i bagagli che inizieranno ad essere ad essere caricati ok stiamo facendo un po' quello che si fa normalmente in un vero aeroporto ok far salire i passeggeri e imbarcare i bagagli bene torniamo dentro al nostro aereo perché abbiamo ancora alcune cose da fare prima di avviare i motori che è la cosa che faremo per ultima prima di dopo aver avuto l'autorizzazione della torre di controllo perché queste cose vanno autorizzate concentriamoci sul nostro computer di bordo ora non entro nei dettagli perché qui sarebbero molte le cose da impostare e non lo faremo vi dico solo che cliccando su F plan abbiamo la possibilità di visualizzare il nostro piano di volo quello di cui stavamo parlando nello scorso video quando abbiamo impostato i nostri punti rotta per capirci vedete che partiremo da Ciampino arriveremo a Napoli per questa strada vabbè potremmo impostare molte cose per esempio i flap con cui decolleremo flap 01 e impostiamolo qui ecco qua avremo tre velocità v1 vr e v2 v1 v1 è la velocità da cui possiamo iniziare a tirare indietro la cloche per decollare v2 è l'ultima velocità utile a cui possiamo decollare prima che sia troppo tardi cioè oltre questa velocità il rischio è di terminare la nostra la nostra pista o meglio non è proprio così questa è l'ultima velocità in cui possiamo decidere di fermare il decollo ok in caso di problemi mi perdoneranno i puristi per carità questa è la transition altitude non sto qui a spiegarvi cos'è ma a Ciampino è 6000 ok perfetto per il momento sorvoliamo su tutto il resto anche se veramente sarebbero molte le cose da specificare ma cosa più importante dobbiamo decidere da quale pista decollare noi decidiamo di partire da Ciampino ovviamente quindi clicchiamo su Lira departure partiamo dalla pista 33 e ancora quale di queste procedure seguire se vi ricordate il nostro primo punto rotta che abbiamo visto è non lo ricordo più aspettate torniamo al fly plan è Pemar ok ora prendendo una qualsiasi cartina aeronautica di Ciampino potrete leggere che Pemar prevede di passare per un punto rotta che si chiama Urb 8C ok non sto qui a spiegarvi perché se avete voglia cercate online come si leggono le cartine SID ok per la salita iniziale e capirete perché questa cosa quello che poi è importante capire è che qui troverete Pemar che è il nostro punto che vogliamo raggiungere clicchiamo sopra tutto impostato insert e vedrete che il computer di bordo ha già da solo aggiunto i punti rotta necessari per arrivare correttamente da Ciampino al primo punto rotta ok non vado oltre con le spiegazioni perché potremmo stare qui a fare un trattato quello che facciamo adesso però è avere l'autorizzazione della torre di controllo per iniziare a il nostro pushback quindi a farci spingere indietro dal da un veicolo che è questo qui sotto e iniziare il taxi verso la nostra pista di partenza di decollo quindi apriamo il nostro ATC control ok clicchiamo su go back to clearances e scegliamo request taxi IFR chiedi l'autorizzazione per il taxi per il rurlaggio clicchiamo ok ripetiamo il messaggio perfetto tutto pronto possiamo siamo stati autorizzati a rullare verso la pista e a fare il pushback ad avviare i motori esattamente nell'ordine inverso in cui ho detto tutto questo quindi avviare i motori fare il pushback ed andare verso la pista vi dico che nella realtà è un po' più complicata di così se siete bravi e volate con network come i VAO o Watsi ma avrete dei controllori veri intanto non dei computer delle persone che vi daranno le istruzioni e arrivare alla pista a volte è molto più complicato dovete utilizzare la mappa la cartina dell'aeroporto per capire dove siete e quale via seguire non vi diranno come ci hanno detto qui via taxiway ma vi diranno via alfa bravo bravo charlie alfa alfa bravo bravo e voi dovete seguire quella strada per arrivare alla pista nel caso nostro siamo fortunati perché stiamo semplificando tutto proprio tantissimo e avremo la disposizione una guida che ci dirà dove andare ok avviamo i motori anche qui seguiamo la nostra checklist facciamola fare direttamente al nostro assistente perché noi siamo maledettamente pigri olè ho sbagliato starting engine auto complete anche qui è molto divertente fare le varie procedure ora per motivi di tempo lasciamole fare direttamente al nostro assistente notate come una volta che i motori iniziano ad accendersi lo possiamo notare da questo schermo qui vedete come i valori vedrete come questi valori inizieranno piano piano a salire quando si stabilizzeranno vuol dire che i motori sono pronti per essere utilizzati nel frattempo facciamoci fare il pushback chiediamo un pushback quindi togliamo i freni di parcheggio eccolo qui control punto del tastierino numerico ok a questo punto chiediamo il pushback direttamente al nostro toro di controllo che poi non è la toro di controllo in realtà questa è la ground ma vabbè fa niente dai facciamo finta che sia tutto giusto quello che mi sto dicendo request pushback fantastico inizieranno a spingerci tra poco non tenete come guardiamo verso l'esterno verrà un mezzo e il mezzo ci spingerà all'indietro eccolo qui il piccolo mezzo per il pushback verremo spinti all'indietro ok piano piano vedrete che inizieremo a muoverci all'indietro torniamo ovviamente dentro la nostra campina di pilotaggio perché tra poco dovremo dire alla toro di controllo di fermare il pushback non vogliamo andare troppo indietro altrimenti rischiamo di fare avrete problemi possiamo chiedere di girare verso destra o verso sinistra in base alla nostra posizione possiamo uscire fuori e vedere come stiamo messi io direi di farci spingere ancora un po' indietro ok vorrei fare un pushback verso destra probabilmente ok in maniera da poter fare poi una manovra tra poco chiederemo di fare uno stop pushback non vogliamo andare troppo indietro per non andare a sbattere contro le strutture che abbiamo dietro ok possiamo già richiedere lo stop del pushback fantastico ricordate sempre di rimettere i freni di parcheggio quando siete fermi per evitare incidenti control e il punto del tasterino numerico i motori sono pronti perfetto c'è un'ultima checklist da seguire prima di poter fare il taxi verso la nostra pista quindi checklist andiamo nelle altre checklist abbiamo after starting engine clicchiamo autocomplete o facciamola a mano come preferite ok abbiamo finito con le checklist non è vero nel mondo reale non è così nel mondo reale si fanno sempre checklist anche prima di decollare anche durante il volo e anche e soprattutto prima dell'atterraggio e dopo l'atterraggio in questa versione semplificata di flight simulator no diciamo che è tutto un po' più semplificato ok ho preso intanto in mano il joystick e la cloche per controllare il motore sono sistemato abbiamo l'autorizzazione già per andare verso la pista 33 siamo fortunati siamo molto vicini alla pista 33 togliamo i freni di parcheggio importante tenerli sempre perché se per sbaglio accelerate qui fate danni e andiamo verso dove? verso la nostra pista andiamo un po' di manetta poca manetta mi raccomando non esagerate i tasti per aumentare di manetta sono F1 per manetta al minimo F2 per diminuire F3 per aumentare ed F4 per andare con la manetta al massimo siamo fortunati siamo già arrivati alla pista oh non andate troppo avanti come sto facendo io è sbagliato potrebbero multarvi se non cacciarvi ok mettiamo subito i freni di parcheggio perché dobbiamo chiedere l'autorizzazione alla torre prima di decollare io me ne sono un pochettino passato normalmente ve lo faccio vedere è vietato severamente superare quella linea che vedete qui senza l'autorizzazione della torre di controllo ok ora noi stiamo facendo un volo di prova non stiamo giocando in multiplayer e quindi siamo perdonati ma non si fa mai arrivare così avanti chiediamo l'autorizzazione alla torre di controllo e chiaramente dobbiamo adesso parlare con la torre di controllo quindi Tune Ciampino Tower on 120.5 chiediamo cosa l'autorizzazione al decollo request takeoff clearance for IFR from Ciampino Tower Ciampino Tower AUSA 138 1123 ready for IFR departure runway 3-3 AUSA 138 1123 cleared for takeoff runway 3-3 traffic is generic on final oh attenzione perché ci dicono ci dicono interessante che siamo autorizzati al decollo c'è un traffico generico sul final quindi dobbiamo sbrigarci vuol dire che c'è un aereo che sta arrivando e sta per atterrare quindi siamo autorizzati a decollare ma dobbiamo muoverci togliamo subito i freni di parcheggio vi dico tanto stiamo non stiamo giocando online posso prendermi qualche secondo in più vi dico subito che dopo aver decollato dobbiamo fare tre cose importanti tirare sul carrello col tasto G della tastiera togliere i flap ok che sono quelli che abbiamo armato poc'anzi questi qui in basso e poi successivamente attivare l'autopilota dopodiché dovremo ridurre la potenza ok andiamo abbiamo tolto i freni di parcheggio andiamo un po' di gas speriamo di non andare a sbattere con l'aereo che eccolo là dobbiamo sbrigarci potremmo andare a sbattere sarebbe bellissimo essere arrivati fin qui per poi andare a sbattere con un aereo che sta atterrando quindi dobbiamo sbrigarci siamo allineati con la pista diamo potenza al motore non mi odino i puristi vi prego perché io so di non fare cose proprio legali ok chi è esperto di volo sa perché adesso mando la manetta al massimo non si fa questo se un volo sta per atterrare tu non puoi decollare ok la torre di contralotti avrebbe bloccato occhio alla velocità a 126 possiamo tirare indietro la cloche siamo partiti via il carrello via i flap via con l'autopilota che è questo qui da questo momento in poi potete tranquillizzarvi tutto verrà gestito dall'autore di controllo bene ci viene richiesto di cambiare frequenza ci sutilizziamo sulla frequenza di Roma e ci contattiamo rotate come l'altimetro venga sempre data come informazione è importante quando siete subito vicino la terra ok ci stanno chiedendo di contattare Roma Centro ora vi tranquillizzo che nel mondo reale i cambi di frequenza non sono così rapidi però che qui ci sono anche dei bug in Fly Simulator noti contattiamo subito Roma Centro ok siamo autorizzati ad andare avanti come avevamo stabilito per adesso dobbiamo essere tranquilli con l'autore di controllo mi ero dimenticato di dirvi questo è un bug tranquilli non vi capiterà nella realtà e spero anche nelle future release del gioco di dover fare tutto questo dialogo con l'autore di controllo vi dicevo è importante che controliate che voi stiate salendo e che la velocità non sia troppo elevata io ho dimenticato di ridurre la potenza dopo il decollo come vi avevo detto quindi adesso vedete che ho ridotto la velocità e il pilota automatico automaticamente ci riporterà a livelli accettabili contattiamo Roma Departure nel frattempo ok finiscevo ok siamo autorizzati a raggiungere gli 11.000 piedi a knowledge impostiamo la nostra nuova altitudine qui sul pilota automatico clicchiamo per darla vedete che è sparito il puntino stabiliamo anche di salire con una certa celerità 2000 2000 piedi al secondo controlliamo di iniziare effettivamente a salire si stiamo salendo e raggiungeremo gli 11.000 piedi la velocità come vedete sta tornando sotto controllo sotto i 10.000 piedi ok dobbiamo contattare di nuovo Roma Centro dicevo sotto i 10.000 piedi è vietato andare oltre 250 nodi ok questo per informazione mostra rispondiamo che abbiamo capito ok contattiamo Roma Centro ok basta così speriamo di stare un po' tranquilli con l'autore di controllo oh approfittiamole per dare uno sguardo fuori dai perché alla fine è bello Fly Simulator perché hanno fatto un gran lavoro con la grafica ok siamo decolati da Ciampino quello che vedete è il lago di Albano ok e stiamo ora andando verso il punto rotta Pemar che poi ci porterà giù 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 in fondo verso Napoli ok questo è Fly Simulator 2020 fabioambrosi.it il mio sito internet www.fabioambrosi.it iscrivetevi a questo canale youtube se avete voglia mettete un like mi fa piacere cercatemi su facebook sono Fabio Ambrosi c'è la pagina mi raccomando cliccate mettete un like e nel prossimo video la terza parte ci avvicineremo a Napoli faremo un approach ok preso mobilmente sulla pista 2-4 e speriamo che vada tutto bene perché l'atterraggio è la parte più complicata al prossimo video grazie a tutti